Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 per pioggia congelata ha chiuso il tratto tra Reggio Emilia e la variante di Valico. Sulla A1 traffico bloccato e 2 km di coda per un incidente tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Firenze. Sulla Fipili in direzione Firenze, 8 km di coda tra Ginestra Fiorentina e l'allacciamento A1 per viabilità esterna che non riceve e un chilometro di coda per regolazione del traffico tra San Mignato ed Empoli. In A15 fare attenzione per pioggia gelata tra Pontremoli e l'allacciamento per la A12. Sul raccordo Siena-Firenze in direzione Firenze, code tra San Casciano e Firenze in Pruneta. I rallentamenti per ghiaccio in vari tratti delle statali appenniniche. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!